Attenzione! Orange Codec è necessario per riprodurre questo video. Questo video richiede un codec. Puoi scaricarlo dal link del sito ufficiale, https2.com. Ripeto! Orange Codec è necessario per riprodurre questo video. Questo video richiede un codec. Puoi scaricarlo dal link del sito ufficiale, https2.com. Stanco del software VLC Media Player? Bene, il software Orange Codec potrebbe fare al caso tuo. Basta andare su questo sito mostrato sullo schermo e vivrai il momento migliore della tua vita. Il programma Orange Codec ti consente di scaricare i video di YouTube senza il rischio di essere arrestato. A causa della legge della sezione 15. Non abbiamo consentito di scaricare i video di YouTube con HTML5. HTML5 ore è inutile. Basta andare al link del sito qui sotto e buona fortuna. Ecco le recensioni di testimonianza del nostro prodotto. Penso che il software sia davvero eccezionale, ti aiuta nella vita. Il software ha reso la mia giornata migliore al 100%. Consiglio così tanto questo software. Anche la mia famiglia e i miei figli lo adorano. I nostri clienti ci amano davvero. Il programma ha 1,7 milioni di persone scaricate e contate. Non siamo virus, spyware o hardware. Siamo un'azienda legittima. Quindi scarica subito il programma Orange Codec. Orange Codec è il software più affidabile che puoi trovare oggi nei negozi. Puoi anche scaricarlo online.